Un pomeriggio di Raku, qui all'azienda Le Masche di Levone, di cosa si tratta? È un'occasione per unire l'artigianato artistico fatto con la terracotta ad un prodotto altrettanto artigianale, sicuramente di nicchia, come i vini di questa azienda che produce ottimo vino. Ma che cos'è il Raku? Raku è una tradizione ceramica millenaria che nasce dal Giappone, noi in maniera molto umile e così spartana cerchiamo di portarla avanti cercando di avvicinare le persone a questa tecnica, che è una tecnica spettacolare perché viene fatta a fuoco vivo, quindi sicuramente con grande impatto visivo, e nello stesso tempo le persone capiscono i meccanismi della ceramica, cioè le cotture e quindi la composizione degli smalti, anche così il divertimento di potersi sperimentare in prima persona. Quindi nel laboratorio di oggi le persone hanno realizzato un loro piatto? Sì esatto, io ho portato delle tazze in biscotto e ognuno di loro ha potuto sperimentarsi dando creatività personale alla propria tazza, che poi appunto in maniera collettiva viene cotta e a questo punto poi goduta al momento dell'apertura del forno, e quindi poi il derrito di riduzione d'ossigeno e quindi il lavaggio finale della tazza, che a distanza di un'ora semplice può essere così ammirata, finita e goduta. Questa attività artistica sta prendendo sempre più piede? Si creano sempre più eventi? Ma in realtà qualche anno fa non si parlava di racco, o comunque si parlava in pochi spazi di nicchia. La cosa interessante è avvicinare soprattutto i ragazzi, soprattutto chi non ha opportunità di portare un forno a mille gradi a casa propria, o comunque nel proprio giardino, e quindi a questo punto il fatto di condividere questo tipo di attività, in sicurezza ovviamente, dà un'occasione in più per vedere come viene fuori il proprio lavoro artistico. Prossimi appuntamenti? Nel prossimo futuro il 7 di ottobre, sul lago di Viverone, a Piverone, nella corte della biblioteca, ci sarà un'occasione di abbinare viaggio e racco, e quindi in pratica con dei narratori, racconteremo dei viaggi in Giappone uniti a questo rito del Raku, che bene o male andrà a accompagnare i loro racconti. Un'iniziativa particolare che unisce l'arte del vino all'arte del Raku? Sono Lorenzo, sono il titolare qua di Aziende Agricole Masche, che oggi sta ospitando questa iniziativa di Raku insieme a Livio, un carissimo amico che ci siamo conosciuti qualche mese fa, aveva già esposto durante un nostro evento in cantina nel mese di luglio, un'open day, le sue opere, e abbiamo deciso oggi di prendere in questa giornata di metà settembre, quasi alle porte dell'inizio della vendemmia, di proporre questa attività che ha compreso e ci fa trovare oggi sia bambini che adulti che sono venuti, oltre che degustare il vino, a provare questa fantastica cosa di crearsi la propria tazza. Sicuramente siamo un'azienda giovane, quindi ospitare un evento del genere che raggruppa comunque tanti giovani, alla fine dai più piccoli ai più grandi, è sicuramente interessante e divertente alla fine, perché si lavora ma ci si diverte, senz'altro. Grazie a tutti!